Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. In apertura vogliamo fare gli auguri alla signora Franca De Dominicis che proprio oggi festeggia il suo compleanno. Si tratta di un'amica storica della nostra redazione che segue sempre con grandissima attenzione la programmazione sportiva di Telemolise e che spesso ci fornisce anche dei preziosi suggerimenti. Tifosa del Vasto Girardi, suo paese di nascita, la signora Franca De Dominicis vive a Termoli e tutti i giorni in sostanza è sintonizzata sui nostri canali. A lei vanno sicuramente gli auguri più sinceri, più affettuosi da parte mia personalissima e da parte di tutta la redazione sportiva di Telemolise. Calcio di serie D, seconda del girone d'andata. Seconda giornata in serie D, Fabriano Cerreto, Limpiagnonese 2 a 0, Iesina Recanatese 0 a 0, Monticelli Campobasso 1 a 2, Nero Stellati, Franca Villa 0 a 7, Pineto San Marino 0 a 1, San Nicolò Matelica 0 a 1, San Giustese Castelfidardo 3 a 1, Vastese Avezzano 1 a 0, Pesaro L'Aquila 2 a 1. In testa a quota 6, Pesaro Fabriano Cerreto e Matelica 4 a San Giustese, Campobasso San Marino e Vastese a 3 punti, Franca Villa Castelfidardo, L'Aquila Olimpiagnonese 2 a 1, Iesina 1 a 1, Avezzano e Recanatese a quota 0, Monticelli San Nicolò Pineto e Nero Stellati. Successo del Campobasso in causa del Monticelli. Giove, Pluvio, Flagella, Ascoli e Provincia, Malerba di Castel di Lama sembra tenere botta discretamente al diluvio marchigiano. Il Campobasso si regala il primo e sofferto successo stagionale contro Monticelli che recrimina non poco contro la direzione del signor Monaco di Termoli. Si gioca a porte chiuse con l'ausilio della luce artificiale fin dall'inizio della gara. Pochi sono i più intimi presenti, tra questi la dirigenza rosso-blu e l'ex allenatore Massimo Silva. Una manciata di Campobassani proprio non resiste alla domenica senza calcio. Così, bando alle porte chiuse, la partita è ben visibile anche da una sede di fortuna fuori dall'impianto di gioco. Appena due primi per un prolungato corpo a corpo in aria fra Capozzi e Guida, su cui il termolese Monaco preferisce sorvolare. Foglia Manzillo ripropone il 3-5-2 in cui debutano Bolzan in difesa per Del Duca in non perfette condizioni fisiche e Gurma in attacco al posto di Ingretolli. Corre il decimo quando Terrenzio, calciando da lontano, non trova per poco il compagno Ciabuschi ma poi la deviazione di Ribeiro in calcio d'angolo. Al tredicesimo, grande palla ospite nata dopo un cross velenoso di Elefante toccato da Rinaldi, la palla viene allontanata. L'azione però continua con Vecchione che prende la mira, Rinaldi respinge, vai tu che vado io tra D'Agostino e Gurma, l'albanese va in scivolata ma spedisce fuori da un passo. Stallone chiede ai suoi di saltare il centrocampo Campobasano al diciassettesimo, bontà forse irregolare su D'Agostino. Si può giocare con la palla ricevuta e calciata da pedalino, blocca Landi senza problemi. Il Monticelli dà il via alle proteste già dalla mezz'ora, contatto in aria fra Elefante e Guida. Non ci sono calci di rigore ma solo un giallo per simulazione alla punta di casa. Partita senza dominatori e dominati, ermetico il Monticelli al trentatresimo d'Agostino prova a strappare in zona tiro chiude al lato di destro. Il canovaccio non cambia, nella ripresa ci vorrebbe l'episodio a mutare la scena a scolana. Ci provano i locali al quarto d'ora con Guerra che offre al defilato pedalino che dal fondo mette in mezzo prima che l'anniena scacci il pericolo. Il campo basso è in partita ma manca nel guizzo giusto. Al diciottesimo stava per procurarglielo Rinaldi dopo il cross di Vecchione ma la paura a scolana passa subito o quasi. Dal ventesimo in campo Ingretolli al posto di Gurma. Ultimo segmento di gara da cui il match cambia e si presterà ad una serie di emozioni ravvicinate. Al venticinquesimo destro al bacio di D'Agostino ci vuole tutta la bravura di Rinaldi per evitare la capitolazione. Quest'ultima è posticipata di un attimo il tempo che Bolzan calci l'angolo e Danucci lo incorni in rete ad altezza primo palo. Partita sbloccata quasi a sorpresa la pioggia ininterrotta si placa. Il campo basso no al trentasettesimo dal lungo rinvio di Landi. Spizzica bene Ingretolli. Goffo intervento di Terrenzio che finisce per servire D'Agostino affrontato da Rinaldi in area di rigore. Penalti abbastanza discutibile dal dischetto D'Agostino timbra il raddoppio. I lupi pensano di aver già vinto. Errore grave al quarantesimo. Eccichella di testa a frustrare la festa anticipata dei Campobassani. Il tutto nato da un angolo battuto da guerra. Gara riaperta e forse anche incattivita. Al primo minuto di recupero punizione distante ribattuta da Capozzi. Poi spedita alta dall'ex Bontà. Nervi tesi nel finale. Al novantatresimo Ingretolli rifila una testata a Cichella. Sosi cerca di far rinsavire l'avversario. Dopo attimi di reale tensione Monaco espelle sia l'attaccante rosso-blu che il quattro di casa. Il Campobasso si gode i tre punti e la crescita lenta ma efficace. Ai lupi forse ancora difetta un finalizzatore. Il Monticelli sbatte contro la mare a realtà dello zero nella casella dei punti fatti. Trasferta a Mara a Fabriano per l'Olimpia Agnonese. I padroni di casa hanno vinto 2-0 con rete di Tafani al venticinquesimo del primo tempo. Il raddoppio all'ottantasettesimo di Zepponi. Domenica prossima ancora trasferta per i Granata a Castelfidardo. Sport e cultura la Vivi la tua città Campobasso ha riscosso un grande successo. Successo per la quarta edizione di Vivi la tua città e Migliaia hanno invaso le vie del centro di Campobasso e del Borgo Antico per seguire tantissimi eventi in programma nei diversi angoli e piazzette del cuore del capoluogo molisano. In centro la Vertical Session in Piazza della Vittoria dove sono esibiti sulla facciata del comune di Campobasso band ed artisti. Tutto il centro storico ha registrato numeri importantissimi grazie agli eventi connessi alla manifestazione Campobasso 1587 ambientazioni, storie ed animazioni rinascimentali al Borgo Antico. Tantissimi giovani in via Ferrari e davanti a tutte le attività commerciali che hanno organizzato la serata. Tanto sport lungo via Leelina, le amministrazioni comunali di Campobasso e la Confesercenti hanno pensato a tutti. Vivi la tua città ha dimostrato di essere un format che piace, destinato a chiudere l'estate prima di rientrare a scuola e del rientro alla normalità del capoluogo molisano dopo il periodo estivo. In tanti hanno preso parte alla manifestazione in piazza ma c'è chi ha seguito la quarta edizione anche sui social. Giuseppe Formato, responsabile della comunicazione dell'evento. Vivi la tua città Campobasso, una comunicazione tanto social? Sì, tanto social come sta avvenendo nell'ultimo periodo quando si organizzano eventi a Campobasso con la collega Fabiana Bazzia diamo una mano a livello della comunicazione quindi ci facciamo da intermediari con la stampa visto che gli eventi sono tanti come in questo caso abbiamo raggruppato in due giorni tantissimi eventi che spazzano dallo sport alla cultura, alle spettacoli musicali, eventi collegati al sociale. Quindi ci facciamo da intermediari per la stampa attraverso la canonica comunicazione con i comunicati stampa ma ci avvaliamo anche dei canali social con foto, video in presa diretta testuale e possiamo dire che anche Campobasso e il Molise si stanno evolvendo in questa direzione tanto è vero che sono tante le condivisioni e la viralità dei post che vengono pubblicati appunto in presa diretta durante gli eventi. Un modo per far viaggiare per la notizia è attirare gente da Campobasso, campobassani, molisani che vivono in Molise e anche fuori regione infatti in questi due giorni comunque si sono contate diverse presenze anche extra regionali, extra del capoluogo. Sì, questo tipo di comunicazione serve anche e soprattutto per fare vivere la città chi per qualsiasi motivo non risiede più a Campobasso e in Molise e quindi possono vedere seppur attraverso uno smartphone o un computer ciò che avviene nel capoluogo molisano e più in generale sull'intero territorio regionale. Il campus del Cus Molise ha riscosso una grandissima affermazione, lo dicono gli oltre 100 bambini con punte di 170 che hanno affollato il Palau Unimol dal 12 giugno fino alla grande festa finale di venerdì scorso svolgendo tantissime attività sportive e ricreative. La lunga divertente maratona estiva si è chiusa con la festa finale che ha visto partecipare insieme bambini e genitori che si sono cimentati in giochi e attività varie. Intanto oggi parte l'open week del Cus Molise fino a sabato tutti potranno provare gratuitamente le varie discipline sportive e visitare il Palau Unimol, tante le attività sportive in programma nutritissime anche l'attività dei settori giovanili. Calcio d'eccellenza è iniziato ieri il campionato. Prima giornata in eccellenza, Alife e Riccia 1-0, Campoli Pietra Sesto Campano 0-1, Venafro Treppini-Mattese 1-0, Gambatese-Zernia 1-2, Guionesi-Frentani a 2-0. È stata sospesa per Vento-Termoli-Campo-Basso, Vulcani a Vasto Girardi 1-3, si giocherà mercoledì Boiano-Spinete. In testa a quota 3 punti tutte le formazioni che hanno vinto e quindi Vasto Girardi, Guionesi, Zernia, Alife, Venafro e Sesto Campano a 0 tutte le altre. Successo esterno del Vasto Girardi contro il Vulcania. Prima giornata e primo brindisi come da pronostico per il Vasto Girardi che supera agevolmente in esterna la formazione della Vulcania. Giudice dei 90 minuti per la prima di campionato, il signor Saluppo della sezione di Campobasso. Veniamo alla cronaca, minuto numero 5 di Lullo, pizzica Petrone toccato con le cattive in area di rigore da De Blasio. Saluppo è allì a pochi passi e senza esitare indica il dischetto del rigore sul quale si presenta Sergio Ruggeri, destro fiacco e debole. Palmieri riesce a neutralizzare, undicesimo sguscia la Vulcania con Montano che da fuori non riesce a creare grossi problemi al portiere under del giudice. Di nuovo Vasto Girardi, corner dalla sinistra, taglio sul primo palo di Calcagni che stacca di testa, Palmieri si supera con i riflessi. Poco dopo si rinnova la sfida tra il 9 giallo-blu e il portiere Campano con quest'ultimo che ha ancora la meglio, alzando con la mano di richiamo il pallone sopra la traversa. Il minuto in cui si sblocca la partita è il 28esimo. Petrone dalla destra pesca sul secondo palo Marinucci-Palermo che si traveste da bomber e di testa segna il primo gol in campionato del Vasto Girardi. Nel secondo minuto di recupero, precisamente al 47esimo, Petrone approfitta di un errore in uscita da parte della difesa del Vulcania, verticalizza per Calcagni che con il piatto sinistro trafigge Palmieri per il 2-0 giallo-blu, parziale con il quale le squadre guadagnano gli spogliatoi. La regia di Danilo Scharinci ci permette di traslare alla ripresa all'inizio della quale le alto molisani trovano subito il tris. Calcio piazzato dalla corsia di destra lo batte Di Lullo, un rimpallo favorisce Calcagni che batte nuovamente Palmieri e scrive il 3-0. Sempre più Vasto Girardi sul terreno di gioco è la volta di Di Lullo che dalla distanza cerca gloria senza però troppe pretese. Al 34esimo accorcia le distanze alla compagine di Rocca Monfina, Aurilio spara dalla distanza e sulla respinta corta di Del Giudice, il classe 98 Cipro, mette a segno il 3-1. Di lì in poi non succede più nulla di rilevante nei minuti di recupero. Annotiamo la girata del neo entrato Cato nel cuore dell'area di rigore con la sfera che muore sul fondo 3-1 il definitivo in favore del Vasto Girardi che conquista i primi tre punti in classifica dopo il doppio successo in Coppa e domenica prossima riceverà la visita dello Spinete. L'Isernia ha vinto di misura al Venditti di Gambatesa. L'Isernia spugna di misura il Venditti di Gambatesa e comincia il campionato di eccellenza con il piede giusto. La formazione di Fabio Di Rienzo dimostra di essere squadra tosse e di saper soffrire, soprattutto nel finale. Il Gambatesa esce sconfitto ma a testa alta. Dirige Petraglione di Campobasso. Pronti via e Vinci Guerra si accentra dalla destra. Conclude verso la porta ma Biasella è attento. Al quinto il direttore di gara perde sangue dal naso e deve sospendere per diversi minuti il confronto. Dopo le cure del caso il fischietto campobassano torna al suo posto e si torna a giocare. Corre il quindicesimo quando il Gambatesa si fa vedere in aria Pentra. Sempre con Vinci Guerra. Biasella c'è. Ancora Isernia al ventisettesimo con la botta di Fazio da fuori. Palla a lato. Poco dopo la mezz'ora i Pentri hanno una grande chance per passare in vantaggio. Sul cross di Dovidio di Matteo si vede respingere la conclusione da uno strevitoso capobianco. Sulla sfera c'è Cantelmo che conclude debolmente ancora tra le braccia del portiere di casa. Sull'altro fronte il Gambatesa riparte velocemente sull'asse Vinci Guerra a Bruno. Conclusione del numero 8 bianco-verde. Biasella respinge a mano aperta. Al 45esimo tocca a Cirenei spedire a lato un bell'assist di Vinci Guerra. Il recupero è cospito. Nel finale di tempo l'Isernia reclama un calcio di rigore. Vingione in aria viene contrastato da Giuliano Cucciniello. Gli ospiti chiedono il penalty ma Petraglione lascia correre. A riposo le due squadre vanno sullo 0-0. Con le immagini di Alberto Pietrunti passiamo alla ripresa. Minuto 12 di Matteo e Pitocchi confezionano una bella azione per l'Isernia. Il primo conclude ma capobianco para. Sei minuti dopo è Mincione a mettere i brividi alla retroguardia bianco-verde. Tiro deviato. Il Gambatesa in questa fase del confronto fa un po' fatica. e capitola al 24esimo quando Mincione mette una bella palla dentro sulla quale si fionda Iaboni e fulmina capobianco. Gambatesa e Isernia 0-1. La formazione di Fabio Di Renzo spinge sull'acceleratore e raddoppia il 36esimo con Fasulo che raccoglie un bell'assist di Rega e non lascia scappo al portiere capobianco. Gambatesa e Isernia 0-2. Sembra finita ma la formazione di Barrea ha una grande reazione d'orgoglio. Passano 60 secondi e Silla spedisce il cuoio calciato da Aviglione alle spalle di Biasella. Il Gambatesa ci crede. Nel finale di partita i padroni di casa cercano il pareggio. Va in attacco anche il portiere capobianco ma l'impresa non riesce. L'ultimo sul sulto è una punizione di Vinci Guerra sulla quale non arriva nessun compagno. C'è però il triplice fischio di Petraglione che sancisce la prima importantissima vittoria dell'Isernia. Il Gambatesa esce sconfitto ma con tante indicazioni positive sulle quali lavorare. Campionato di promozione anche questo torneo è partito ieri. Promozione prima giornata. Castelmauro ha lasciato i tre punti al Pietramonte Corvino. Dal diluvio di Castelmauro emerge vittorioso il Pietramonte Corvino che pur aveva avuto diverse occasioni per far male trovando però sulla sua strada un ottimo sedile. Neppure il tempo di iniziare Caputo prova subito la botta ma con la nero c'è. Al quinto è Mammolino sull'altro fronte ma il fendente sorvola la traversa. Tre minuti dopo è Saucelli che sguscia in aria ma sedile strepitoso nel chiudergli lo specchio. Al decimo il Castelmauro si vede strozzare in gola l'urlo di gioia per il vantaggio. Lancio dalle retrovie per Caputo che si invuola verso la porta e batte con la nero. Ma l'arbitro Tano di Termoli seppur dopo diversi secondi annulla per un presunto fallo dello stesso attaccante di casa. Dubbio di non facile soluzione che scatena le proteste bianco-verdi. Al ventitresimo il Pietramonte Colvino si scuote con la voli di Ferro su cross di Longo ma la porta di sedile rimane inviolata. Al ventinovesimo ancora Ferro stavolta di testa a provarci ma sedile ci mette un rammendo. Nella ripresa la gara si mantiene su ritmi piuttosto compassati e solo al ventitresimo Vannella ci prova da fuori ma senza fortuna. Al ventottesimo però la gara si sblocca. Longo lavora un po' pallone dal limite dell'area e lascia partire una rasoiata chirurgica che non lascia a scampo a sedile per lo 0-1 rosso-nero. Il Castelmauro reagisce immediatamente con il nuovo entrato Giordano ma la sua conclusione non inquadra la porta. Al quarantunesimo Bracone ci prova da calcio piazzato ma la botta è fuori bersaglio. Ma in pieno recupero Callura da poco entrato perde banalmente un pallone in uscita e spalanca la via a ferro che solo davanti a sedile non può sbagliare. 0-2 e partita chiusa con il Castelmauro che esce con guatesta alta mentre i rossoneri incamerano i primi tre punti e iniziano a ve le spiegate il campionato. Atletica, il conto alla rovescia per la dodicesima edizione della Corri Sernia è già iniziato. La nuova Atletica Sernia sta definendo i dettagli della gara podistica in programma domenica. Calcio a 5 regionale sarà regolarmente ai nasti di partenza del prossimo campionato di Serie C2. Il Frosolone, ai nostri microfoni il Presidente. Domenico Di Orio parte un'altra stagione tra un po' agli inizi di ottobre credo inizierà il torneo anche di Calcio a 5 e il Frosolone ci sarà perché insomma tu sei stato uno dei primi a sottoscrivere appunto l'iscrizione. Sì, partiamo questa nuova avventura, è il secondo anno che Frosolone partecipa a questa competizione che ha fatto l'iscrizione in Calcio a 5 e la Serie C2. Veramente il comitato mi aveva suggerito di poter partecipare, non so se fa un unico girone perché ancora sta in dubbio se si fa un unico girone o due gironi separati, Basso Molise, Alto Molise ma comunque noi mi sono iscritto quindi sicureremo che saremo tra le squadre che dovremmo fare un salto di qualità. Certamente, insomma si punta a vincere, giocherete anche nel palazzetto dello sport di Frosolone? Sì, ho parlato come dicevo nell'intervista 15 giorni fa, col sindaco ci ho parlato e siamo riusciti a trovare un punto d'accordo per una convenzione con la San Berinvalle e noi andremo lì a giocare nel nostro campo, nel palazzetto per stare un po' più riservati, anche perché stiamo in un'alta montagna e quindi andiamo a incontrare delle stagioni un po' fredde e quindi i ragazzi stanno al caldo e vengono preparati meglio. Certamente, naturalmente lo sponsor è l'Acqua Molise e tutti i prodotti che la Diorio Spa produce insieme all'Acqua Molise e a proposito un'azienda sicuramente in crescita, un'azienda che appunto rappresenta un punto fermo nell'economia della nostra regione. Sì, grazie, complimenti, la mia azienda è veramente conosciuta e quindi abbiamo una visibilità non solo a livello regionale, a livello europeo e mondiale però in questa occasione devo ringraziare anche le altre aziende che mi fanno da sponsor perché conosco tutti gli operatori economici di Frosolone e non solo, che mi danno una grossa mano per poter partecipare a questa squadra con un contributo sostanzioso. Quindi possiamo dire che il Frosolone ci sarà per cercare anche di passare in categoria superiore? Sì, l'obiettivo è questo, l'ho già detto dalla vigilia che è l'intento mio di salire di categoria però sul campo perché mi avevano già proposto, come dicevo prima, di partecipare al girone della C1 e ho detto no, io voglio i ragazzi, lo devo meritare sul campo e il rispondo lo devo dare al palazzetto di Frosolone. Calcio a 5 di Serie B, la Ciaminade ed il CLN Cusmo Lise stanno preparando la prossima stagione. Giovedì la formazione di Paolo Pizzuto sarà impegnata a San Giuliano di Puglia contro il LaFut Sal Saracena. Il CLN Cusmo Lise sabato ospiterà al Palahunimol il Real Dem. Volley è partita la stagione 2017-18 della nuova Pallavolo, dunque si occuperà della parte medica della squadra Paola Di Cesare che noi abbiamo avvicinato. Paola Di Cesare è confermata anche quest'anno la partnership e la collaborazione soprattutto tra il centro Fisiopro e la nuova Pallavolo Campobasso. Quanto preparate le atlete sotto il punto di vista fisico-medico al campionato? Sì, siamo ai blocchi di partenza di questa 34esima stagione, sempre marchiata nuova Pallavolo. Quest'anno la società riporterà anche in serie di calendarizzazione federale ufficiale il nome di Fisiopro. Dopo un paio di anni di assenza avendo lasciato spazio ad un altro partner che aveva interesse ad investire nella nostra realtà. Chiaramente noi non abbiamo mai abbandonato il nostro ruolo e proprio in questi giorni è ripresa la preparazione fisica ad opera dei nostri preparatori che seguono gli atleti sia in campo, quindi durante gli allenamenti tecnici e sia per la parte prettamente fisica con delle sedute di allenamento specifiche proprio adeguate alla Pallavolo. Si farà una seduta anche di potenziamento fisico perché oltre alla tecnica è importante anche la preparazione fisica, muscolare delle atlete che poi alla fine non andranno ad affrontare solo il campionato di prima squadra ma peraltro anche i vari campionati giovanili. Certo, infatti abbiamo già periodizzato le sedute tenendo conto che da dicembre e gennaio inizieranno anche i campionati giovanili perché avendo una squadra composta quasi esclusivamente di atleti under chiaramente dobbiamo tenere presente questa situazione perché non si può lavorare sempre nello stesso modo durante tutto il corso dell'anno. Cambiano i periodi, cambiano gli impegni agonistici e cambiano anche gli impegni personali degli atleti che devono andare a combinare il tutto ovviamente con lo studio e con tutte quelle che sono le attività collaterali che non devono essere assolutamente tralasciate. In quest'ottica stiamo sperimentando delle tecniche di preparazione derivanti da studi di ultimissima generazione nel settore le quali prevedono delle sedute che possono essere sia staccate dalla parte tecnica sia integrate nella parte tecnica quindi senza pensare sempre e soltanto a quello che è il discorso proprio di potenziamento inteso come poteva essere la vecchia preparazione fisica quindi con sovraccarichi, con pesi, con la corsa, con sedute di campo di atletica in questo senso ma andando a cogliere le peculiarità della disciplina e quindi sviluppandole per tutti quelli che sono i lavori di potenziamento e di prevenzione. Anche quest'anno per la nuova Pallavolo Campobasso prosegue la sfida del sitting volley? Sì, si prosegue. Stiamo programmando anche questo settore non soltanto come società ma anche e soprattutto a livello regionale perché chiaramente i numeri sono limitati da una parte dico per fortuna perché si tratta ovviamente di disabilità fisiche quindi è bene che in una regione ce ne siano il meno possibile però potendo noi contare comunque in linea generale su numeri esigui stiamo provando a mettere su una squadra regionale che possa prendere parte al prossimo campionato italiano abbiamo già individuato degli atleti con caratteristiche paralimpiche quindi che possano essere classificati ma anche atleti normodotati che vogliono mettersi in gioco in questa sfida in quanto il campionato italiano prevede l'apertura anche a un numero limitato di atleti normodotati quindi in questo senso posso dare quasi per certa la partecipazione di una compagine molisana al prossimo campionato italiano Calcio giovanile ha avuto un grande successo la giornata del portiere Sannita che si è svolta alla Baita organizzata dalla scuola calcio di Sanniti al centro sportivo di Ferrazzano è intervenuto Alessandro Pacifico responsabile della scuola per portieri numero 1 di Castellammare di Stabbia la stessa da dove è venuto fuori Gianluigi Donnarumma attuale numero 1 del Milan è stato fatto dunque un primo passo importante verso una collaborazione prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento di stasera con Molise a Calci insieme a Gianni Bruno e Cecilia Di Lauro avremo ospiti, commenti, opinioni e naturalmente la nostra moviola alle 21, Molise a Calci sempre e solo su Telemolise è tutto, buon pomeriggio